Oggi continuiamo a parlare della soledà negativa e dello effetto sia fisico che mentale della soledà negativa. Sig il cammino, trasformati, cambia il mondo, Panasena. Soledà del Giappone Mantra di Panasena. Io personalmente e probabilmente tu tambien, sto cansato di questa cosa parte negativa. La parte negativa uno non si deve enfocare nello negativo, sempre si enfoca nella parte positiva, nella parte per risolvere lo negativo. Però perché vogliamo fare la cosa completa, stiamo guardando anche questa parte dei effetti negativi che hanno. Probabilmente tu già lo conosci meglio che io, perché non soffi di soledà, però magari tu sì, però lo vamos a guardare, e te lo explico anche da un punto di vista di come se relaziona, come ti può evitare di enfermarti. Ora, la prima cosa è che questa soledà tóxica è una mala consellera. Perché? Perché tu pensi che può llenare questa soledà con palliativi. Con llenarla con... A veces può essere con... Estoy solo, me voy a emborrachare. o... Me pongo a vedere pornografia. Sono tutte cose impermanenti e non solamente che devono degenerare mai nella mia vita. Ok? Quindi, che cosa? Perché la mente controla il corpo? Tu sai questo. Non c'è dubbio. Ok? Quindi, quando io sto male, me lo descargo nel corpo. Esa è come... La enfermedad psicosomattica succede così. Il problema nella mente, probabilmente non è che se enloce così. Quindi lo descargo nel corpo. Quindi ho un problema qui, ho un problema allà, perché lo descargo. Quindi, una delle cose che viene dall'allà è, già ci ho provato, la pressione arteriale alta e elevato a livello di colesterolo. Esa è la soledà tóxica. Per questo lo chiamo tóxica. È come un veneno che tu hai dentro. Insomni. O qualche altro problema relacionato con il sogno. Si o no che ti ha difficoltà a dormire. Certo, perché mi sento solo. La cama è media vacia e sempre solo. E mi falta qualcuno. Quindi, mi volteo per la cama tutto il tempo. La altra cosa è questo vicio che ti genera e che ti enferma. Se io miro a tomare alcohol, drogas, vici varii, questo mi va a enfermar anche. Adesso di generare la mente. Aparato digestivo. Me bloquea. Questo poi è parte del stress, perché... Ustedi sapete che parte del stress è questa cosa del problema dell'apparato digestivo. Ok. Perché hai una cosa, una problematica già che hai in altri video e non la voglio toccare qui, perché non siamo larghi. Ora, mi volvo perezzoso. Claro che sì. Sto solo. Non tengo ganas di fare niente. Mi tiro al sofà, al televisore e mi passo ora mirando il televisore o via navegando in internet. Quindi, con la falta di esercizio fisico, mi engordo, empiezo a tener problemi varios e questa è una cosa reale di molte persone che sono soli. E la peor è la debilità del sistema immunologico. Ora, questo sistema immunologico sta qui nel centro del pezzo. Ora, qui sta la glándula timo. e questo è, bene, nella scienza encontramos questa cosa. Tu lo puoi vedere in qualche libro di anatomia. Lo che non si vedo nella scienza è che noi abbiamo un sacro di energia in varie parti del corpo. Sono siete sacro. Uno di loro sta qua. Ora, cada sacro controlla un'emocione. Incidentemente, una delle emocioni di questo punto qui è la esperanza. è la esperanza. Quindi, quando io mi sento solo e mi parella si mora, va a stare sempre solo, la desesperanza mi comincia a come. Qui sta la desesperanza, qui sta anche il timo e qui sta il controllo del sistema immunologico. Quindi, le due cose sono molto relazionate. Nel momento che tu ti baja il sistema immunologico ti empiezano a arrivare una marea di enfermedades che sono relazionate al sistema immunologico, però perché perdiste la esperanza. Ok? Lo che ti stavo dicendo antes, in un altro video, è che la esperanza non si può perdere. Mantieni tu la esperanza e tu veras che questo cambia. Ok? Muy bene. La altra cosa è il declive cognitivo e la falta di memoria. Esa sono cose che tu hai ascoltato e spero che tu non ti ha passato, però tu hai visto che che molte persone empiezano a fallare, letteralmente, poi dicono, non ricordo questa cosa qui. Ora, se noi viviamo, come io stavo explicando in uno dei altri video sui la viejezza, sì? Se tu vives non rigidamente e tu accepti tu viejezza in una maniera alegre, poderosa e te la goza, letteralmente, cominciano a trasformare questa rigidezza in sabiduria, che è una cosa completamente differente. Quindi, una persona sabia realmente non deve, non passa, che io sepa, che le viene l'alzamento. Deve essere proprio un problema genetico perché questo passa, però normalmente non passa perché la mente sta tutto il tempo in movimento. la mente è attiva e la mente è brillante. Quindi, non ricordo qual è, non ricordo, al contrario, le parole ti arriano con molta più velocità, sì? E te lo dico per esperienza personal. Va bene. Otra cosa è la baja autoestima, la falta di confianza. Me ho detto, me dio la mia parella, quindi non sono buono, non sono lo abbastanza buono, tal vez sono un desastre, mi sento solo, eccetera, eccetera, sì? Nadie mi ama a me. Boom! L'autoestima te va per abajo. E quindi, che va a passare? Come l'autoestima te baja, la falta di confianza te baja, tu già non puoi parlare neanche con un vecino che già ti dice no al vecino, non le gusto, ti senti male tu. E questo è uno degli altri problemi che abbiamo. Va bene. La otra cosa è il miedo che ti paralizza, non ti hace actuar come tu deberia actuar. quindi ti torna una social, una persona che non è aislata, e chiaramente è più aislata, la società ti golpea perché dici il tipo è raro, il tipo è totalmente separato dal mondo, non vuole a niente, e tu ti mui da la gana di stare con gli altri, però non ti ha il coraggio, per questo ti ha il miedo di acercarti a gli altri. va bene. Esi sono tutto casi reali di persone che di verità si, e spero che tu non sei una persona una persona di esso, però se lo sei, ora in la altra parte la parte positiva come può crecer. va bene. tutto, llena tutto questo vacio, e così che non più ti vas a sentire solo o solo